Grazie a tutti. Il Gond è un progetto nato da tre amici che avevano a cuore la salvaguarda del mare, sia della penisola ma in senso più ampio di tutto il Golfo di Napoli. Il Gond è un progetto nato da tre amici che avevano a cuore la salvaguarda del mare, sia della penisola ma in senso più ampio di tutto il Golfo di Napoli. È un gesto forte nei confronti di chi può realmente risolvere il problema. Per me il mare rappresenta la mia coscienza e avere la coscienza sporca non ci sto. Né mi sta bene che siano altri a sporcare la mia coscienza e questo è lo spirito che mi porta a muovermi all'interno di Ecoonda. Abbiamo deciso di intraprendere questa maratona a nuoto, 45 km in sei giorni, dal 10 al 15 luglio, dalle acque splendide, bellissime, cristalline di Positano, fino a quelle invece purtroppo meno pulite e non balneabili di Castellammare, proprio per proteggere il mare che vedete alle mie spalle. È un mare bellissimo che però è a rischio, è sotto assedio perché in tutta quest'area mancano i depuratori e perché su quest'area l'uomo ha fatto opere anche come questa che vedete alle mie spalle, l'Ecomostra di Alimuri. Grazie a tutti.